Stamattina presto l'arrivo dei primi blindati, poi le forze dell'ordine, gli operatori, gli assistenti sociali, i rappresentanti del comune e poi lentamente è iniziato lo sgombero delle famiglie. Questa mattina qui sono arrivati anche i genitori della piccola Cata, come possiamo vedere dalle immagini insieme al fratellino, erano accompagnati dai loro avvocati, sono probabilmente venuti a riprendere alcuni effetti personali perché poi li abbiamo visti allontanarsi con dei trolley. Il sequestro preventivo della struttura è stato disposto dal GIP su richiesta della DDA per poter approfondire le indagini. La struttura quindi viene svuotata, una dopo l'altra le famiglie vengono fatte allontanare, abbiamo visto passare numerosi pulmini, carichi di mamme e bambini, soprattutto alcuni uomini si sono allontanati a piedi e il comune si prenderà a carico anche delle categorie più fragili per le quali si troverà nelle prossime ore. Una soluzione per il momento è tutto, a voi.